Ciao ragazzi qui è Brodox Ebbene si ragazzi Il numero lo cambierò in Brodox Perché mi viene di più, è più corto E insomma Ora non posso proprio scrivermi il numero su Youtube Brodox Perché devo aspettare 89 giorni Ma oggi siamo finalmente qui Ad iniziare Crash Bandicoot Ragazzi insieme Una serie che Purtroppo non cercherò in tutti i mondi Ragazzi di finirla Non è come Life is Strange Che non la porterò più ragazzi Purtroppo sì Perché l'ho finito il primo capitolo Lo voglio finire per i miei conti Ma ragazzi Crash Bandicoot Crash Bandicoot Vi almeno riuscirò Voglio almeno cercare tutti i giorni Di portarmi un video di questo E di finire a massimo il primo ragazzi Ok ragazzi Io non ho mai giocato tutto il primo Non l'ho mai iniziato L'ho iniziato solo la prima volta che l'ho preso ovviamente Ma ci ho giocato poco Perché ancora Cioè volevo iniziarlo con voi Ma ancora non avevo un canale Youtube Però cosa possiamo dire Cioè Ragazzi voglio portarvi la serie Voglio portarvi perché mi va Mi va Buu buca Buu Buu Via Via Buu Buu 9 vite col buca Udra Come si chiama questo qua Non lo ricordo mai Ehm Va bene Manca una cassa Ma dov'è Non mi di No Non ci credo Madonna mia Ma quel cavolo Come la prendo Una cassa Cioè Però Provo almeno a fare questo Anzi Ci rinuncio Allora Voglio prenderle tutte ragazzi Voglio finire il gioco con voi al completo È impossibile Perché è difficilissimo Ok E vabbè Ragazzi No vabbè Ragazzi Che cavolo Scusate se ragazzi Sono lento Ma io non ho mai giocato In vita Mi accresce Questa è la prima volta Che lo gioco Quindi Datevi una calmata Cioè Almeno so Quali sono le case Tutte le altre cose Però Ragazzi Mi dispiace Che non vi porto più Le Free Strange Ma Quello è un gioco Da capire Non è Udilissimo Da portare In tanti Ragazzi Lo so E vabbè Dai a me Non prendiamo questo Faccio i tagli Ragazzi Faccio i tagli Perché non è possibile Cioè Ragazzi Siamo passati Però Cioè Dio senso Non l'ho presa tutti Ovviamente L'ho presa veramente Pochissime 41 su 49 Non so Pochissime Però ragazzi L'ho mancato Un po' Però Ora Vabbè Ve lo fa vedere qui Ora Vediamo la mia Grandissima figura Di merda Sette casse Dai ci sta Per sette casse Su Ok ragazzi Possiamo al prossimo livello Oggi voglio almeno Portarvi Due livelli Due livelli Già è tantino Dai Non è tantissimo Ma è già tantino Selezioniamo Il livello Comunque ragazzi Volevo dirvi Allora Se volete che vi porto Anche Crash Bandicoot 2 Ragazzi Deciderete voi Se volete che vi porto La serie di Uncharted Ma alla fine ci sta Perché Crash Bandicoot Oramai L'hanno portato tutti Voglio un po' Che anche voi Vedete un po' Di salita da me Quindi dai Vi porto Uncharted Anche se non è tutto Sto granché Che volevo portarvi Vabbè Ovviamente Ragazzi Uncharted 4 è passato Però dai Ragazzi Mi ricordo i comandi Non faccio più Tante brutte figure Oddio ragazzi Eh È bella tosta Cavolo Oh mio dio C'è qua Cavolo Oddio Oddio Vabbè Ok ragazzi No questa qua non la faccio Perché vedete Ci muoio Dai poi abbiamo Tre video Pensavo di più Comunque ragazzi saluto i tu brother one console Si ragazzi li saluto perché ultimamente non sto secondo tanti youtuber infatti mi ricordo che tanto tutti i giochi hanno per la play 4 E però buongiorno ho visto questo qui e va bene lo saluto perché voglio salutarlo Quindi ragazzi saluto i tu brother i tu brother one console Sanso come si chiamare E quindi c'è li sto seguendo molto quindi apprezzo quanto tu da solo Quanto vuoi cioè fai video veramente benissimo quindi volevo solo salutarti e tutto comunque Ovviamente c'è poi non è sicurissimo che tu questo video me lo vedono eh Però vorrei salutare cioè ti voglio salutare ti voglio salutare Comunque ragazzi a me di portare Crash Bandicoot è venuto proprio l'idea da lui eh Quindi ecco perché lo voglio ringraziare Per fortuna Dai Tre minuti anche su sto livello Quindi ragazzi io direi che per oggi è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Ci vediamo al prossimo video Bella raga